musica guardi che su questo tram c'è gente che perde il posto di lavoro se arriva in ritardo e che sarà mai puoi sempre cercarne un altro no guarda ti devo richiamare perché in questo momento non posso parlare assolutamente va bene scusate il ritardo ha trovato traffico i soliti furbi che occupano la corsia preferenziale e che sarà mai dai non fare come me rispetta le corsie preferenziali che sarà mai grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti